Ragazzi oggi giocheremo a Fortnite Dobbiamo cercare di fare la battaglia reale Di vincere Siamo già in 18 Perché non volevo farvi vedere il video troppo lungo Quindi durerà circa 5 minuti Stiamo traguardando Allora, se ve lo chiedete Non sto giocando io ma mio fratello E stiamo cercando di vincere Poi abbiamo delle armi Ve le faccio vedere Proprio non vuole Però voi vi faccio vedere il mio nome Che questo è quello sopra Edo trattino basso fedo Per chi vorreste la mia amicizia Edo trattino basso fedo Potete stoppare il video e andare a inclinare là Sono a livello 11 Perché non sono fortissimo E voglio nei commenti Uno di voi che mi dia un consiglio Per come migliorare Perché gioco dal capitolo 3 Season 4 E quindi non c'ho mani